Cari amici, è una giornata importante per noi. Ci auguriamo diventi una giornata importante anche per le istituzioni del nostro Paese. Come avevamo annunciato, abbiamo approvato in giunta delle proposte emendative della legge Calderoli. Porteremo poi questo testo per la ratifica nel Consiglio regionale della Campania e lo invieremo ai Presidenti delle Camere per gli atti conseguenti. Ma manderemo copia di questo atto deliberativo della Giunta regionale della Campania a tutti i gruppi parlamentari perché decidano in piena autonomia di promuovere iniziative coerenti con queste nostre proposte. La Regione Campania è stata alla testa di un movimento politico e di opinione contrario alla legge Calderoli e all'autonomia differenziata. Per la verità avevamo incontrato il Ministro Calderoli e uno spirito anche di collaborazione. quasi due anni fa avevamo sottolineato alcune nostre preoccupazioni, avevamo avanzato in modo particolare due richieste che si procedesse non solo all'approvazione dei LEP ma al finanziamento dei LEP prima di procedere con il decentramento di poteri e che i LEP fossero definiti da un organismo istituzionale terzo, l'ufficio parlamentare di bilancio. Si è deciso invece di andare in altre direzioni e si è attribuita sostanzialmente la responsabilità anche di definizione ai LEP al governo. Questo ha sottolineato la necessità che ha avvertito il governo di andare avanti con una forzatura sulla legge dell'autonomia differenziata. Abbiamo guidato, dicevo, la battaglia contro l'autonomia differenziata con iniziative di massa. Abbiamo ancora continuato in questi mesi, in queste settimane con tutta una serie di iniziative che abbiamo svolto nel nord del Paese per spiegare bene la nostra posizione. Con la proposta che abbiamo approvato di emendamento della legge Calderoli noi offriamo l'ultima possibilità al mondo politico del nostro Paese di collocare la discussione sull'autonomia, su un piano di ragionevolezza, di dialogo e di non lacerazione del Paese. Noi siamo stati fra i promotori di un ricorso alla Corte Costituzionale che rimane in piedi, siamo stati promotori della raccolta di firme per il referendum, ma abbiamo chiarito da sempre che intendevamo muoverci con spirito unitario, che non eravamo interessati a battaglie ideologiche, che eravamo impegnati su un doppio fronte, rifiuto dell'autonomia differenziata, ma anche battaglia per la modernizzazione dell'Italia. Qualcuno ci diceva nelle iniziative che abbiamo fatto in questi mesi al nord, ma voi volete mantenere le cose così come sono in Italia? Abbiamo spiegato che noi siamo interessati più di tutti a modernizzare l'Italia, a sburocratizzare questo Paese, a semplificare lo Stato. Abbiamo ribadito ancora in queste settimane che il nostro orientamento è questo, ma abbiamo anche ribadito quello che abbiamo spiegato dal 2019, quando abbiamo chiesto nuovi poteri anche come Regione Campania, ma su una linea completamente diversa da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. La nostra linea era dal 2019 una linea che abbiamo definito di burocrazia zero, perché riteniamo che questo sia l'unico terreno su cui è possibile modernizzare l'Italia, ma tenendo unite le forze produttive del nostro Paese e i ceti professionali. Devo dire che in questi mesi, nei dibattiti che abbiamo avuto soprattutto nel nord del Paese, questa nostra linea è apparsa del tutto ragionevole e condivisibile. Devo dirvi con sincerità che nei dibattiti che abbiamo avuto da Torino a Verona, a Mantua, a Bergamo, a Treviso, a Como, dappertutto. Nessuno dei nostri interrogatori del nord, soprattutto del mondo imprenditoriale e professionale, ci ha sottolineato la necessità di un'autonomia differenziata, ma tutti ci hanno comunicato la piena disponibilità di una battaglia comune per sburocratizzare l'Italia, per modernizzare il Paese, per decentrare competenze, pareri, funzioni, quanto più possibile, a ridosso dei cittadini, nelle regioni e nei comuni. Allora, raccogliendo un po' tutto questo ed essendo stati i protagonisti della battaglia contro l'autonomia differenziata, abbiamo anche avvertito il dovere, avendo aperto un'interlocuzione con settori decisivi della società del centro nord del nostro Paese, di avanzare una proposta che, come dicevo, possa riportare a discussione su un terreno di razionalità e di unità nazionale. Questa nostra proposta serve anche a sgombrare il campo da una lettura del Mezzogiorno d'Italia che è intollerabile. Ogni volta che parte la discussione sull'autonomia differenziata parte contemporaneamente la narrazione di un Sud fatto di cialtroneria, di inefficienza, di disamministrazione. Questa nostra proposta ha l'ambizione di unire l'Italia, ma anche di spiegare a tutti in maniera in equivoca, che siamo pronti ad accettare la sfida dell'efficienza. Siamo pronti, anzi, siamo i più interessati a combattere la sfida dell'efficienza. Manca nei titoli del manifesto il terzo che avevo dettato e che si sono dimenticati di istintare, modernizzare l'Italia è una sfida difficile da vincere. Questa è i manifesti e quella dei microfoni. Allora, che cosa abbiamo approvato in giunta? Primo, e su questo domandiamo ai nostri interrogatori di dare risposte chiare e semplici, cioè sì o no. Il tempo delle ambiguità è finito ed è arrivato il tempo dell'onestà intellettuale e della trasparenza. L'EP, ci è stato garantito dal ministro Calderori che non si sarebbe proceduto nel lavoro di autonomia differenziata se non dopo la definizione di LEP, poi per strada questo impegno si è perduto. si prevede di poter andare avanti comunque in attesa della definizione dei LEP. La proposta della Regione Campania è questa, che non si vada avanti se non dopo aver definito i LEP e finanziato i LEP. La novità che noi introduciamo è questa, definire e finanziare. I LEP erano già stati definiti, ma non erano stati finanziati. Se vogliamo essere intellettualmente onesti e seri, dobbiamo rispondere a questa domanda. Siamo disponibili ad andare avanti solo dopo aver definito i LEP ed averli finanziati? Secondo, noi proponiamo che siano vietati i contratti regionali per quanto riguarda la sanità pubblica e la scuola pubblica. Come sapete oggi, sanità pubblica e scuola pubblica si muovono sulla base di contratti nazionali. Riteniamo decisivo che sia mantenuto questo carattere nazionale nella organizzazione del personale sanitario e del personale scolastico. Sottolineo con particolare forza la necessità di mantenere il carattere nazionale alla scuola pubblica del nostro Paese. La scuola è il luogo di formazione della coscienza nazionale. I programmi scolastici non possono che avere una ispirazione legata alla nostra Costituzione e ai valori che la Costituzione rappresenta. Per quanto riguarda il punto più sensibile che noi rileviamo nel discorso sull'autonomia differenziata e per dimostrare a tutti che siamo pronti ad accettare ogni logica di efficienza del sistema, proponiamo che nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale si attribuiscano le stesse risorse procapite a tutti i cittadini italiani, come diciamo noi, dal Piemonte alla Sicilia. Voi sapete che ancora in questo momento l'assessore Cinque mi confermerà le cifre noi siamo penalizzati nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale per circa 200 milioni di euro l'anno nonostante un piccolo recupero che abbiamo ottenuto quando si sono modificati i criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale. Ancora oggi siamo l'ultima regione d'Italia nel riparto delle risorse nazionali. È uno scandalo che si trascina da un decennio. Questo scandalo penalizza l'insieme del territorio meridionale. Allora, se dobbiamo fare la sfida e l'efficienza dobbiamo partire con le stesse risorse in tutta Italia. Chiediamo agli amici del Nord e ai promotori del referendum siete d'accordo a dare a ogni cittadino italiano le stesse risorse? Sì o no? Voi sapete che c'è stato posto un argomento in questi anni e cioè la differenziazione delle risorse data dall'anzianità della popolazione quindi da un maggior livello di come dire morbidità legato all'anzianità. questo criterio è oggi più che mai superato se guardiamo quello che è successo nel campo delle tossicodipendenze dei disturbi alimentari della condizione psicologica di un'intera generazione di fenomeni sconosciuti vent'anni fa come quello degli chicomori di centinaia di migliaia di giovani che si isolano nelle case e rifiutano qualunque relazione sociale se pensiamo a tutto quello che coinvolge le giovani generazioni dovremmo capovolgere il criterio dare più risorse alle regioni dove vi è la popolazione più giovane allora per rispondere anche a questa preoccupazione noi prevediamo che ci sia l'accantonamento di uno 025 di uno 025 del fondo sanitario nazionale complessivo per affrontare eventuali emergenze per dare una mano a qualche regione che dovesse avere una particolare emergenza ma a partire da un riparto omogeneo di risorse per tutti i cittadini italiani ripeto la domanda e la ripeto a quelli che parlano di efficienza noi siamo pronti a gestire la nostra sanità avendo le stesse risorse pro capite di un cittadino del nord voi siete pronti secondo proponiamo che la legge dello Stato stabilisca che il numero negli addetti alla sanità pubblica ogni mille abitanti sia uguale per tutte le regioni d'Italia in questo momento abbiamo questa situazione non vi dico le regioni la regione Campania ha 10,2 addetti per la sanità regionale ogni mille abitanti ci sono regioni del nord che hanno 18,9 addetti per la sanità pubblica o 16 è qualcosa di scandaloso e di intollerabile cioè noi gestiamo il nostro sistema sanitario con perlomeno 15.000 medici meno rispetto alla media nazionale è tollerabile uno scandalo del genere è tollerabile in queste condizioni di quale efficienza parliamo per quanto riguarda i livelli essenziali di prestazione noi arriviamo sempre ad un punto di criticità che è rappresentato dalla quantità di personale che abbiamo e dalla quantità di risorse che abbiamo se non vi sono le stesse risorse e lo stesso personale è puramente mistificatorio il discorso che riguarda l'efficienza di diversi sistemi regionali e nonostante tutto possiamo vantare risultati di eccellenza nazionale nella nostra sanità come sapete abbiamo deciso di avviare una campagna di informazione per spiegare i fatti niente di più e niente di meno terzo proponiamo che la discussione sui livelli essenziali di prestazione escluda criteri relativi al costo di vita che viene le diverse regioni perché questo significherebbe cristallizzare la situazione che significa decidiamo il riparto decidiamo il finanziamento dei LEP tenendo conto del livello di servizi superiori e del costo della vita cioè siccome qui abbiamo meno asili nido abbiamo meno risorse per gli asili nido che significa? cioè questo significherebbe cristallizzare la situazione attuale chi ha di più continua a vedere più chi ha di meno ma l'articolo 119 della Costituzione ci dice che noi siamo impegnati a recuperare il divario fra nord e sud non a cristallizzare la situazione dunque proponiamo che quando si ragiona di LEP i criteri di riferimento non siano legati al costo della vita o a cose del genere ma l'uguale diritto costituzionale dei cittadini italiani a godere dei servizi essenziali il più essenziale di tutti i servizi è la tutela della salute nell'ultima nell'ultimo rapporto Gimbe mi facevano osservare che addirittura la percentuale di personale medico che ha la regione campania rispetto alla media nazionale è diminuita ancora è diminuita ancora la situazione è davvero scandalosa allora noi proponiamo al Parlamento italiano alle forze politiche di condividere queste modifiche della legge Calderori sulla base di un principio di ragionevolezza di uguaglianza dei cittadini italiani di rispetto dei diritti fondamentali dei nostri cittadini dal Piemonte alla Sicilia ovviamente se si modifica la legge Calderoli si può superare anche l'esigenza di un referendum ho detto che noi siamo stati in prima fila nella promozione del referendum siamo stati la regione che ha raccolto più firme ma avvertiamo anche come dire il dovere di offrire sempre un terreno di dialogo di confronto civile di collaborazione sulla base dei principi costituzionali se si dovessero accogliere queste modifiche si potrebbe superare il referendum fermo restando che pende davanti alla corte costituzionale il ricorso che abbiamo fatto con altre regioni sull'insieme dell'idea di autonomia differenziata e di rapporti fra stato centrale e regione questo problema rimane all'attenzione della corte costituzionale ma per quanto riguarda la legge Calderoli in senso stretto potremmo andare oltre questa legge acquisendo almeno sui punti fondamentali una linea di unità nazionale e di rispetto dei diritti di tutti i cittadini del nostro paese ho detto prima che la nostra battaglia è su due fronti quando parlando nelle realtà del nord io richiamavo le cose che dicevamo nel 2019 per rendere chiaro che significava per noi burocrazia zero mantenendo intatta l'unità nazionale e l'unità delle forze produttive ho trovato consensi unanime unanime allora noi riproponiamo questa battaglia per modernizzare l'Italia cioè per confermare che non siamo per mantenere lo status quo perché l'Italia è un paese che affonda in una parude burocratica che rischia che rischia di frustrare tutte le energie positive il dinamismo economico la creatività delle imprese dei ceti professionali delle start up dei giovani ci sono cento temi sui quali possiamo tranquillamente trasferire le competenze alle regioni senza spaccare l'Italia ma trovando il consenso di tutte le forze produttive abbiamo detto lo abbiamo ripetuto ma erano le cose che chiedevamo nel 2019 pareri ambientali impianti energetici parliamo ovviamente non di impianti strategici ma diventa ridicolo che per fare un parco fotovoltaico dobbiamo dividere i pareri sopra i 30 megawatt sotto i 30 megawatt cose demenziali che esistono solo in Italia pareri ambientali faremo delle valutazioni anche su alcune cose che tolgono competitività all'Italia penso soprattutto ai porti ai lavori di dragaggi della sabbia da fare nei porti per cui in Italia ci mettiamo 10 volte più tempo rispetto al porto di Rotterdam pareri ambientali impianti energetici piani paesaggistici per avere la definizione di un piano paesaggistico in Italia dobbiamo attendere i secoli non so a che punto siamo io ho perso le tracce non so se tu ti ricordi chi è che interrogiva con il ministero non so se Fulvio siamo arrivati a un certo punto che discepolo è qua non c'è la titante è morte abbiamo dovuto in qualche caso fornire noi la cartografia che non avevano i ministeri per definire l'organizzazione del territorio la fotografia del territorio era ancora quella di Vittorio Emanuele di Badoglio nei casi migliori eravamo arrivati fino a quando ho seguito io a otto anni nove anni di tempo perso nel dialogo con il ministero dei beni culturali trasformazione urbanistica ed edilizia ci possono essere competenze ulteriori per quanto riguarda le regioni ovviamente senza creare come dire un quadro normativo spezzettato per tutta Italia nel senso che se un imprenditore deve fare una gara deve avere norme certe che valgono per tutto il paese insediamenti produttivi riteniamo che su queste materie come su tante altre è possibile avviare la modernizzazione dell'Italia la semplificazione dello Stato l'avvicinamento delle competenze ai cittadini e ai territori ci auguriamo che su questa linea alcune forze politiche che hanno espresso rilievi critici in questi ultimi mesi penso a Forza Italia penso alla posizione assunta al collega Roberto Chiuto e a Calabria siano poi coerenti a livello parlamentare perché se poi esprimiamo valutazioni critiche ma quando andiamo a votare votiamo per l'autonomia differenziata e beh allora manchiamo di coerenza e dunque ci aspettiamo che tutte le forze politiche in modo particolare quelle che hanno espresso valutazioni critiche ci sostengano accolgano queste proposte emendative della legge della legge Calderoli faccio osservare infine che stiamo assistendo in Italia al più grande esempio di irrazionalità e di incoerenza che si sia mai registrato nel nostro paese non si è mai parlato tanto di autonomia e decentramento dei poteri e non si è mai centralizzato tanto a livello nazionale è stata cancellata l'agenzia per la coesione del sud sono state eliminate le ZES regionali abbiamo perso quasi un anno la regione Campania poi ha fornito il nuovo responsabile della ZES unica meridionale che ha utilizzato l'esperienza fatta in Campania per evitare di perdere tempo a livello nazionale il fondo di perequazione infrastrutturale è stato prosciugato letteralmente le politiche di coesione sono state condizionate da una norma approvata prima di giugno che prevede un ruolo scritto proattivo dei ministeri cioè prevede una sottrazione di poteri reali ai territori regionali facciamo dunque notare agli amici della Lega che mentre parliamo di autonomia differenziata stiamo assistendo alla centralizzazione più vasta che abbia conosciuto l'Italia a tutto questo dobbiamo aggiungere la centralizzazione mai vista nella gestione del PNRR a tutto questo dobbiamo aggiungere alcune ipotesi legislative che hanno riguardato la sanità con la previsione impropria di controlli sulle liste di attesa da parte del ministero della salute con la possibilità di provvedimenti amministrativi da parte del ministero della salute cose sconvolgenti autonomia differenziata e centralizzazione a livelli mai visti credo che sia arrivato il momento per darsi anche una linea di coerenza e di serietà e di non contraddittorietà anche istituzionale diversamente da quello che è avvenuto in questi due anni ci auguriamo sinceramente di poter ottenere risposte positive da parte di tutti i gruppi parlamentari per quello che ci riguarda ma lo abbiamo detto il 16 febbraio di quest'anno nella manifestazione che abbiamo fatto a Roma piazza santi apostoli non stiamo agitando una bandiera di partito una bandiera ideologica una bandiera di coalizione stiamo cercando di agitare la bandiera della ragionevolezza e anche degli uguali diritti di tutti i cittadini italiani e dunque l'appello lo rivolgiamo a tutte le forze politiche presenti nel Parlamento nazionale parliamo di diritti dei cittadini non di coalizione ci aspettiamo iniziative parlamentari coerenti ci aspettiamo per esempio che sui punti di modifica della Calderoni che riguardano in modo particolare sanità pubblica e scuola pubblica ci possano essere proposte emendative della legge Calderoni a firma di partiti di maggioranza e di opposizione riteniamo che sarebbe un dovere nei confronti dell'Italia è un atto di grande civiltà democratica e istituzionale seguiremo l'evoluzione di questa nostra iniziativa nelle prossime settimane con la ratifica che faremo in consiglio regionale ovviamente attiviamo formalmente il rapporto con Camera dei deputati e Senato ma sul piano politico i partiti possono muoversi tranquillamente è l'ultima possibilità che ha l'Italia per avviare una riflessione senza scontri ideologici e senza lacerazioni se non sarà così affronteremo con grande determinazione la battaglia referendaria e siamo convinti di poter acquisire il consenso della maggioranza degli italiani perché riteniamo che queste proposte siano del tutto ragionevoli e non divisive del nostro Paese grazie a tutti